Il primo di Facebook, il social network più famoso, forse il più cliccato, è finito nel mirino del commissario europeo, per le telecomunicazioni si chiama Vivian Reding. Ebbene, la Reding chiede che siano oscurate i profili, siano nascosti i profili dei minorenni perché troppo accessibili. Sentiamo Manuela Garulli. 200 milioni di utenti e miliardi di dati personali in rete. I social network Facebook in testa sono ormai un fenomeno inarrestabile, ma il prezzo che paghiamo può essere molto alto in termini di privacy. Dopo l'allarme lanciato dal garante Francesco Pizzetti, ora scende in campo anche l'Europa. Le regole sono cristalline, avverte il commissario europeo per le telecomunicazioni Vivian Reding, che in un messaggio sul suo sito ricorda che le informazioni su una persona possono essere usate solo con il suo previo consenso. Per la Reding, internet rischia di diventare una giungla e avverte che l'Unione Europea agirà contro gli stati membri che non applicheranno le regole. La preoccupazione più grande naturalmente è per i minori, per i quali il commissario chiede che i profili rimangano privati e non siano reperibili per i motori di ricerca. E se questo non bastasse si chiederanno regole più severe. Nel frattempo è bene usare massima cautela, ricordando che i dati che mettiamo in rete non sono cancellabili.